Un'altra cosa utile da vedere qua è che nel viewport abbiamo la possibilità di tagliare un pezzo di questo edificio e vederlo separato dal resto. Questo ovviamente può essere molto utile per fare le sezioni in 3D direttamente. Vedete, se andate dentro il viewport senza avere niente selezionato, vi dà la proprietà della vista. Adesso, in questa 3D vado al section box, la scatola di sezione, attivo e lui mi crea questo bounding box che si chiama intorno al mio edificio e posso tagliare spostando queste frecce piccole. Attenzione che queste frecce piccole sono molto molto piccole, praticamente succede spesso che io se sbaglio a selezionare questi sposto il terreno o sposto qualcosa. Quindi state attenti quando state sopra, dovete stare al centro e li spostate e questo vi taglia il vostro modello. Vedete come richiude anche il terreno, diciamo, crea la facciata o la sezione di questo terreno pieno. Ok? Quindi lo sposto ancora, posso fare una sezione, un spaccato di questa architettura o quello che è. Ok? E questo. Certo. Si trova, non avendo niente selezionato, abbiamo la proprietà della vista e qui dentro Extents possiamo attivare Section Box. Potete anche visualizzare bene le piante in 3D. Ok? Vedete questa la planimetria in 3D e lui li seleziona bene e seziona anche, mette il dettaglio di questi muri secondo il livello di dettaglio che avete qua. Ok? Scusate, livello di dettaglio usate Fine, quindi quello che è più dettagliato. Se usiamo quello semplice ci dà questo livello di dettaglio qua, quindi riempie solo di un colore. Invece se usiamo questo alto ci dà anche la sezione di questi muri. Ok? Quindi così possiamo viaggiare meglio dentro. Per esempio se vogliamo mettere i muri dentro così possiamo vederli meglio. Ok? Questo è troppo basso. Ecco questo è il piano interrato. Ok? Quindi si scende. Si entra qua. Qui mi mancano le porte. Mancano ingressi però più o meno è così dentro. Ok? Poi vado in alto. Questo è il piano terra. E il primo piano. Ok. Esco e tolgo il section box. Adesso vi faccio vedere come creare delle viste. Allora la sezione lo sappiamo fare perché l'abbiamo già usata. Creare sezioni. Allora vado sul piano terra però vi lo faccio vedere di nuovo. Ok? Questi. Allora il piano terra probabilmente ce l'avete così. Non importa che stile di vista. Stiamo vedendo che su questi parliamo dopo. Allora creare una sezione. Dobbiamo ovviamente andare su view per creare delle viste. Viste 3D, viste prospettiche, assonometria prospettiva e anche sezioni e prospetti. Allora prima di tutto sezione, section, si crea una sezione. Per esempio faccio questa longitudinale da qui a qui. Ok? Quindi basta cliccare inizio e fine. Magari io non voglio vedere questo lato, voglio vedere l'altro lato. quindi lui mi l'ha fatto, guarda che verso l'alto, guarda verso sopra, verso il nord. Io voglio guardare verso il sud quindi clicco, inverto questa sezione. E quello, quel quadrato che vedete è il quadrato che è del limite di vista. Quindi comincio, taglio qua con questa sezione e vedo fino qua. Se io faccio così vedo meno. Ok? Vedo fino qua. Quindi questo muro non lo vedo più. Invece io lo voglio vedere tutto. Quindi va bene così. Ok? Allora questa sezione ce l'ha chiamata sezione 4. Vedete qui vedo dalla proprietà. Quindi adesso posso chiamarla sezione, scusate, sezione longitudinale o facciamo AABB. Ok. Ok l'ho applicato. Adesso dentro le sezioni, qui vedo sezione BB. Clicco due volte per andare a vedere che cosa vede questa sezione. Eccola. Questa qua. Ok? La posso limitare a questo lato qua, questo lato qua. Ok? Quindi mi basta così. Ok? Adesso sempre il livello di dettaglio si può modificare sempre qui. livello di dettaglio. Faccio alto e vedo i dettagli di questi solai, di questi muri. Ok? ok? Vedete questo spostamento che ho fatto lì si riporta, si lo riporta qua. Quindi stava da qui a qui. Adesso ho limitato da vista da questo limite a questo limite. ok? Allora, se doppiamo ovviamente dovete creare dei sezioni che rappresentano meglio questo edificio. Quindi la scelta della sezione dove si trova è molto importante per capire questa architettura. Quindi non vi dico quanti dovete fare. Fate due, tre, quello che pensate che è giusto. Però lo fate nella posizione giusta. Non lo fate in un posto dove non si vede niente di utile. Perché di solito si rappresenta il progetto quando, diciamo, nella sezione che cosa si vede principalmente? Si vedono le altezze, si vedono i sistemi di... per esempio se c'è un ascensore, mezzo all'ascensore è utile per vedere dove sta l'ascensore, come si rapporta con i vari piani, la scala molto importante. Ma invece se faccio una sezione solamente qua, per esempio, come... ok, una sezione come questo potrebbe essere inutile perché mi fa vedere solamente la differenza di livello. Non mi fa vedere più cose. Invece la stessa, questa qua, mi fa vedere sia le quote, i vari livelli, però mi fa vedere anche la scala. Se no, probabilmente qui c'è qualche informazione in più. Quindi quando dovete scegliere la sezione, scegliete una posizione dove si vede qualcosa. Questa sezione può essere utile perché mi fa vedere questo terreno, questa scarpata, come scende. Quindi vedo livello... e capisco da questa sezione che il livello interrato ha comunque la possibilità di avere la luce che viene da fuori tramite questa scarpata qua. Quindi adesso se vado a questa sezione che è sezione 3, per esempio. Ok? Da qui... vado su Shaded adesso... Headlines... Ok? Da qui capisco che... che questo è aperto verso fuori. Ok? Quindi qui c'è sala gym, praticamente, sala di ginnastica. Si vede che qui comunque è arieggiata da fuori. Quindi questo può essere utile da questo punto di vista. Quindi scegliete le sezioni che sono... che sono utili. Ok? Magari questo se la faccio... questa pianta... Vediamo... questa pianta... questa sezione, scusate... può essere probabilmente più utile se l'ho sposto verso qua. Perché c'è questa scala che si vede. Piano primo. Ok? Guardate... questo è probabilmente più utile se sta qua. Perché mi fa vedere la sezione di questa scala a chiocciola. Mi fa vedere che questo piano... si interfaccia al piano sotto. Invece qui era un corridoio che mi fa vedere solamente poche cose. Quindi probabilmente se vado a questa sezione BB... Ok? Vedete qui già vedo più cose. Vedo la scala... vedo questo qua. Magari la scala così tagliata non si capisce. Quindi lo faccio un po' indietro. Lo sposto un po' indietro. Vado al piano primo. Vado al piano primo dove si vede. Quindi includo magari tutta la scala. così si vede che da qua si va su. E qui la scala questo fa salire su. Però questo comunque si affaccia al... al piano sotto. Ok. Allora, molto comodo questo, diciamo, software che ci fa vedere direttamente... ci crea la visualizzazione più adatta come default. Praticamente le linee sezionate sono più spessi. Quelle che sicuramente uno con AutoCAD le deve fare. Deve indicare che questa è una linea di sezione che deve essere più spessa. e questo tratteggio deve essere grande così. Queste invece le linee che vedo in prospetto devono essere più piccoli. Che qui, so già, si capisce che sono linee di prospetto ma non di sezioni. Quindi ci fa, diciamo, ci fa risparmiare un sacco di tempo da questo punto di vista. Però, adesso, quello che voglio capire, questo che vedo qua, che sono i tratteggi, che è quello che vedo qua, come li posso cambiare, come li posso personalizzare secondo il materiale. Allora, questo si fa, seleziono per esempio il solaio, ok? C'è questo solaio qua. Se vado su Edit Type, queste cose che abbiamo visto velocemente prima, però adesso vediamo un po' come, ripetiamo, come si possono cambiare. Dentro Structure, vado su Edit, vedete, ogni strato di questi che vediamo, se apro il preview, guardate qui, posso aprire il preview, posso vedere quello che ci sta dentro. Questo, ogni strato di questi è visualizzabile qua, quindi, ogni strato ha la sua corrispondenza. E questo è lo spessore, ok? E poi c'è il materiale. Allora, il materiale può essere scritto, se abbiamo, sappiamo il nome del materiale, dentro la libreria basta scriverlo. Quindi scrivo cemento, se c'è un materiale che si chiama cemento, mi lo dice, la prende semplicemente e basta. Invece, se io scrivo qualcosa di strano, lui mi dice che non è un materiale che c'è questo, ok? Quindi non è un nome valido. Quindi adesso esco, ritorno. Questa ceramica bianca è un materiale esistente. Se clicco su tre punti, mi apre la libreria dei materiali. Questi materiali, che stanno qua, ogni materiale di questi... Ok, questi sono i materiali del progetto, questi sono la libreria da cui posso prendere altri materiali. E posso anche creare i miei materiali. Ok, quindi adesso ogni materiale di questo, per esempio questo che ci sta qui, che è la ceramica bianca, qui posso vedere la proprietà di questo materiale. Ok, quindi adesso vado su Identity, l'identità, vedo il nome del materiale, la descrizione, classe, perché sta dentro classi che sono questi qua. Ok, poi posso anche mettere informazioni in più che il produttore di questo materiale, il link, quindi essendo BIM, alla fine posso interfacciare direttamente anche con il produttore. Qui invece, nell'altro, in questa seconda pagina, abbiamo la grafica di questo materiale, quindi che colore c'ha, però questo colore si vede quando c'è la modalità shading, non quando faccio un rendering. Ok, ok, shading, poi surface pattern e cut pattern, quindi questo è il retino quando la vedo in prospetto questo materiale e questo quando lo taglio. Ok, quindi adesso non c'è niente, quindi questo materiale in particolare, come vedete qua, è bianca quando è tagliata e non c'è niente, quindi praticamente non c'è nessun retino. Invece, se io seleziono per esempio questa qua, la seconda, sabbia e calcio a struzzo, vedete, quando la vedo in prospetto vedo questo retino e quando la vedo anche tagliata vedo questo retino. E questo è vero perché vedo qua, vedete, lo vedo qua. E il colore, che è il grigio che sta dietro, è questo qua. Ok, però quando voglio fare un rendering si parla dell'apparenza, dell'appearance. Quindi vado qua e questo è proprio il materiale che deve apparire quando faccio il rendering. Quindi vedo il preview qua, poi c'ho le informazioni, ok? Per esempio, il materiale, il colore, il finishing, il bump, quindi se è un po' liscia o no, si può modificare tutto quanto qua. Allora, adesso comunque è questa l'idea, però vi voglio far vedere le altre viste, come creare le camere, come creare altro. Poi rientriamo di nuovo con il discorso dei materiali, perché dobbiamo fare un materiale del prospetto, diciamo, del materiale della finitura principale di questo edificio. Ok, tutti sono, diciamo, tipo mattonelle bianche. Quindi adesso li vediamo. Quindi chiudo un attimo qua, chiudo un attimo qua. E adesso vado avanti con le viste. Quindi questi possono essere, come abbiamo detto, personalizzati. Vado sul piano 0. Per esempio, adesso voglio creare una vista tridimensionale prospettica. Quindi tutto quello che abbiamo usato fino adesso sono assonometrie, giusto? Quindi quando io scelgo 3D mi dà un'assonometria. Ok? La sonometria, diciamo, è un disegno tecnico utile, perché SHIFT mi fa capire le altezze, mi fa capire. Ovviamente anche in prospettiva, però qui è più immediata, quindi io so più facilmente se questo è alto quanto questo, o diverso. Ok? Se questo è parallelo a questo, è più percepibile qua. Quindi quando, durante la modellazione, è utile usare questo. Invece, quando voglio rappresentare, visualizzare meglio questo oggetto, come sarà nella realtà, ovviamente l'assonometria è una cosa teorica. Non è reale. Sempre noi guardiamo e vediamo prospettiva. Allora, per creare prospettiva dobbiamo creare una camera. Ok, allora vado sul piano terra. Vedete, la vista, adesso dentro view sempre, vado su 3D view, invece questa volta vado su camera. Ok? Salvo il progetto, sì. E guardate, adesso c'è una camera attaccata al puntatore di mouse. La metto da qualche parte, questa camera, per esempio qua. Guardate, prima di tutto lui mi fa l'offset. Allora, questa camera sta sul piano 0, piano terra. E con l'offset 1.75, è l'altezza di uomo più o meno. Ok? È in prospettiva. Per default è prospettica, possiamo anche... Quindi la metto qua, per esempio, e la trascino il target dove sta guardando questa camera. Quindi l'uomo è posizionato qua, che sta guardando, o quello che sta fotografando sta qua, e sta guardando verso il centro più o meno del palazzo, così. Ok? Clicco qua. E lui mi apre in automatico questa vista. Vedete che mi è uscito qui, 3D View 1. Ok? Vista 1. Adesso questa vista la posso anche cambiare. Anche qua, io sto dentro la vista. View Name, dentro l'Identity Data. Posso scrivere Camera 1. 1. Ok? Va bene. Allora, adesso posso zoomare e uscire e allontanarmi, avvicinarmi da questa fotografia che sto qua. Ok? Allora, questa non prende tutto il viewport, come fanno altri programmi. E invece questa è limitata, come se fosse una fotografia. Però la cosa utile è che questa fotografia può essere stesa. Vedete? Vedo di più. Vedo di più. Vedo di più. Ok? Quindi si stende. E posso anche cambiare stile di vista. Adesso sto usando Hidden Lines. Quindi se clicco sopra posso dare Shaded. Ok? Vedo Shaded. O per esempio... Realistic. Ok? Ancora i materiali sono brutti. Quindi Realistic non è che conviene tanto. Allora, torno su Shaded. C'è anche utile attivare le ombre. Che si vedono qua. Vedete? Shadow Off. Clicco sopra e mi crea le ombre. Ok? Allora, adesso posso girare anche dentro. Quindi sto spostando la macchina fotografica. Adesso guardate. Vado su il Full Navigation. Il Wheel. Clicco. E adesso mi dà questo strumento che contiene vari comandi legati alla vista. Quindi adesso se voglio spostarmi a sinistra, a destra, girare intorno. Guardate per esempio quello a sinistra si chiama Orbit. Devo cliccare e trascinare. Ok? Guardate. Clicco e trascino. Vedete? Giro intorno al mio edificio. Ok? Ho girato adesso 180 gradi quasi. Vedete? C'è anche utile zoom. Mi avvicino, mi allontano. Pan. Quello sotto. Mi sposto. Zoom, mi avvicino. Pan, mi sposto. Zoom un po' indietro. Orbit per evitare l'albero, per vedere meglio. Ok, pan. Ok? C'è anche molto utile il Walk per camminare. Ok? Faccio un viaggio dentro. Ok? Se voglio scendere in basso, Up, Down. Quindi credo che tutto intuitivo, non c'è niente di... Ok? Look. Guardo come se sta girando la testa. Per guardare intorno. Quindi Walk. Look. Adesso sto guardando da sopra questa parte sotto. Posso entrare un po' dentro, attraverso il muro. Poi c'è Up, Down. Abbasso il livello della vista. Ok, vedete? Allora, questa vista qua dovrebbe essere qualcosa di simile a quello che abbiamo nella fotografia. Scusate. Ok, questo lo chiudo, ingrandisco questo, ingrandisco questo. Ok, abbiamo una fotografia simile a questa. Così vediamo se... C'è bloccato qualcosa. Ecco, questa è una foto simile a quello che vediamo là. Ok, un po' più piccolo. Perché adesso abbiamo fatto un obiettivo molto grande di... Ok. Posso creare altre viste. Quindi questo è il concetto. Quindi posso anche girare sempre con Walk. Per fare altre. Adesso ovviamente è brutto così, però deve essere arredato. Questa è l'altra vista dell'altra foto. Ok, mi sa che è questa un'altra foto. Questa qua. Giusto qui deve essere un camino. Questo che vedo... Ok. Va. Questo va fatto meglio. Quindi si vedono tutti i difetti adesso. Ok. Ok, quindi potete creare varie camere e avete varie viste qua. Ok. Allora, anche i prospetti. Allora, vediamo i prospetti adesso. E dobbiamo parlare anche un po' dei stili di vista. Vado su Prospetti. Allora, guardate. Adesso noi abbiamo un prospetto fatto bene. Diciamo che il progetto immaginiamo che è fatto bene. Questo non è fatto bene ancora, però... Noi ci siamo basati sull'immagine Rastar che sta dietro per fare tutte le misure, prendere tutte le altezze giuste e anche per aiutarci a modellare. Quindi questa è stata una cosa utile, però adesso, in questo momento, non ci serve più vedere questo prospetto che è l'immagine Rastar. E magari anche in questo prospetto non ci serve vedere anche la sezione, che di solito la linea di sezione si vede solamente in pianta. Non è molto utile. A volte sì, però di solito non è utile nel prospetto. Quindi possiamo nascondere queste linee di sezione che vediamo in prospetto. Questo invece è un'informazione utile, il livello, a quale quota sta il primo piano, piano 0, a quale quota sta ogni, diciamo, livello importante. Quindi questi li possiamo lasciare. Nel prospetto di solito servono. Invece le linee di sezione e l'immagine Rastar dietro non ci serve. E neanche queste, le linee di costruzione che ci sono aiutate a costruire questo progetto, possono essere nascosti. Allora, vediamo come si fa questo. In ogni vista che avete, avete dentro Graphics, la proprietà della vista. Adesso, non avendo niente selezionato, io ho la proprietà della vista. Devo andare su Visibility Graphics, Edit, ok? Quindi la visibilità. Adesso ci sono categorie di oggetti che stanno dentro il modello, che io voglio nascondere o accendere. Per esempio, la categoria linee di sezione, la spengo, non la vedo più. E così non mi li fa vedere, anche se sono presenti. La categoria, per esempio, immagini Rastar, la posso spegnere. Allora, vedete, ci avete qui Model Categories, quindi le categorie del modello, che è dentro il quale possiamo trovare il Raster Image. Quindi possiamo togliere il Raster Image da questi oggetti. Si vedete, si vede questo qua ancora, quindi ancora esiste. Faccio Apply, Applica. Vedete, adesso non ci sta più. È sparita. Ok. Linee di sezione. Invece, linee di sezione si trova là, Annotation Categories. Categories, ok? Quindi sotto tutte le cose che sono legate alle quote, alle linee di sezione, linee di costruzione, tutte queste cose che non sono veramente un modello, si possono spegnere qua. Quindi vado su, in basso, vedete c'è Sections, Sezioni, li posso spegnere. Reference Line, linee di riferimento, li posso spegnere. Ok, faccio Applica. Vedete, non ci stanno più. Posso anche spegnere i livelli, questi qua, però a me servono. No, queste ancora ci stanno, linee di... Ah, Reference Lines. Questi sono i piani di riferimento. Reference Plane. Questo li devo spegnere. Questo comunque lo posso lasciare. Faccio Ok, Applica, Ok. Ok, adesso li ho nascosti. Ok. Ok, allora, adesso posso anche scegliere qui, tra queste possibilità di visualizzazione, posso scegliere il dettaglio alto e basso. Vi ricordo però, prima di concludere, qui, tra questi ci sono anche qui, Imported Categories. Quindi se qualcuno ha importato invece dell'immagine raster, ha importato un dvg per lavorare sopra, che anche può essere utile, lo può trovare dentro le categorie importate. Quindi qui trovate il nome del file dvg che potete spegnere. Quindi l'immagine si trova dentro il modello, invece il file esterno dvg si trova dentro Imported Categories. Ci sono anche in famiglie importate, che sono cose che importo io di famiglie di Revit, che questi possono essere accesi, ovviamente, perché mi servono come modello. Quindi questi qui si possono spegnere, ricordatevelo. Ok, allora qui, il stile di vista può essere Hidden, come abbiamo visto, questo diciamo che è un po' più meno colorato, più, diciamo, tecnico. Potete vedere Consistence Color, i colori e Realistic, ovviamente se sono fatti bene i materiali, questo può essere anche bello da vedere. E poi il Wireframe, che ovviamente non si capisce bene nel caso del prospetto, perché si sovrappongono tante linee. Ok, allora, adesso Shaded, e ho le ombre, quindi probabilmente questo mi piace adesso come visualizzazione, o posso anche scegliere Hidden Lines. Ok, questo diventa un po' più tecnico, più professionale. Ok, allora, immaginiamo che questa, la visualizzazione che mi piacerebbe avere in tutti i prospetti. Per non andare a fare la stessa cosa su ognuno, adesso comincio a definire un stile di visualizzazione che può essere applicato quando voglio, per ogni vista. Perché se torno, guardate questa su Sud, se torno su Ovest, ci sono tante cose da modificare ancora. Quindi, torno, guardate questa, anche addirittura a Aeroframe. Quindi, torno su Sud, vedete, ognuno ha il suo stile. Torno su Sud, e tasto destro su il prospetto Sud. Vedete, adesso devo dire Create View Template from View. Quindi, crea un template da questa vista. View Template, quindi il template della vista. Quindi, tutte le caratteristiche che io ho scelto dentro Visibility Graphics, e questi qua, si possono salvare in un file template, che posso utilizzare, non un file, un stile, che si possa utilizzare per tutti gli altri. E qui, lo posso dare un nome a questo template, per poterlo scegliere quando voglio. Quindi, facciamo sempre i prospetti. Quindi, questo è il stile di questo progetto per i prospetti. Faccio OK. E qui mi apre la finestra in cui posso modificare questo anche. Vedete, ho questi stili che sono già predefiniti. Io ho aggiunto uno mio adesso, perché l'ho personalizzato e l'ho aggiunto. E qui posso modificare quello che ho modificato prima, per esempio, e anche altre cose. Quindi, vedete, per esempio, questo Visibility Graphics, lo posso trovare qua. Visibility Graphics, questi. Guardate, il Model Annotation Analytical, questo che ho aperto prima. Il Model Annotation Analytical, quindi questi qua, sono questi qua. Quindi qui posso dire, spegni, raster, image, accendi quello che vuoi. Quindi, anche qua, posso modificare quello che vedo. Quindi, adesso, io perché l'ho impostato già prima di salvarlo, quindi mi va bene quello che c'è. Ok? Faccio OK. Adesso, posso accettare questo, applicare questo sui altri prospetti. Quindi, questo prospetto ancora si vede nell'inline di sezione, si vedono i piani di riferimento. Quindi, basta applicarlo. E questo si può applicare qua. Guardate, dentro l'Elevation, prospetto, est, posso, non devo selezionare niente, ovviamente, così vedo la proprietà di questa vista. Faccio View Template, quindi il template della visualizzazione, clicco su Non e seleziono quello che ho salvato. Faccio Apply, OK. Vedete come in automatico lui mi ha spento tutto quello che non mi serve, mi ha attivato quello che vuole. Ok, sempre lo posso fare su altri prospetti. Nord, clicco su questo, due volte, vedete già tutto come voglio io. Ok, Ovest. Ok, quindi adesso ho anche le ombre e quello che mi serve. Ok, quindi questa è la stessa cosa si può fare anche per le viste delle camere. Ok, vedete? View Template. Qui non trovo quelli di prima, perché quella di prima funzionava con la vista perpendicolare che è il prospetto. Qui posso fare un altro template, quindi spengo, faccio e attivo il stile di vista che voglio. Posso attivare il livello di dettaglio, poi dopo posso fare Create View Template from View. Questo funziona per la prospettiva e quindi posso applicare, se ho fatto due o tre camere, posso applicare lo stesso su tutti quanti. Grazie. Grazie.